Il mondo che ti circonda non è stato costruito da persone che non erano più intelligenti di te. Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate. Decidere cosa non fare è tanto importante quanto decidere che fare. La semplicità è la maggior sofisticazione. La mia non è una fede nella tecnologia, è una fede nelle persone. È solamente dicendo no che puoi concentrarti sulle cose veramente importanti. È la capacità di innovare che distingue un leader da un epigono. Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza. È stato uno dei miei mantra. Concentrazione su una cosa e semplicità. La semplicità può essere più difficile della complessità. Devi lavorare duro per ripulire il tuo pensiero e renderlo semplice. Ma alla fine paga. Perché una volta che ci riesci, puoi spostare le montagne. Il design non riguarda solo l'aspetto del prodotto o l'effetto che fa tenerlo in mano. Il design è come funziona. Il digitale è grande ruote che fa TASCO. Il digitale è fondanti colpito. Il digitale è un documento pubblico. Il matin dalla morte. Il digitale èvole. Il digitale è un canale.